Asti, era al matrimonio della figlia, un agricoltore di Ferrere d'Asti, ma al ritorno a casa ha trovato una bella sorpresa. Dopo il pranzo nuziale, l'uomo ha scoperto, dopo aver aperto il cancello e la porta di casa, che i ladri gli avevano portato via attrezzi agricoli e oggetti di valore trovati nelle varie stanze, ma soprattutto 5 mucche, a condurre le indagini i carabinieri di Asti.